Bocciata in Consiglio Comunale la mozione che chiedeva di stanziare le risorse economiche per coprire la quota di costi non ricompreso nel contributo Atersir per estendere la rete idrica alle case sparse di San Pietro in Vincoli, Castiglione, Savio, Roncalceggi. Centinaia di abitazioni. La mozione è stata presentata dalla Pigna che chiedeva al Comune di coprire i costi superiore al contributo del 50% di Atersir finanziato con i fondi derivanti dalle bollette per estendere la rete idrica alle case sparse o in alternativa che fosse Ravenna Holding a finanziare l'operazione. In questi anni si è riuscita a dare una risposta alle case vicine alla rete di qualche centinaio di metri ora però il Comune è chiamato a soddisfare le situazioni più complesse. L'attuale regolamento di Atersir approvato nel 2023 infatti prevede per l'allaccio alla rete da parte delle case sparse la possibilità di contribuire da parte dei privati e dei soggetti terzi a sostegno dei costi di implementazione della rete idrica pubblica per almeno il restante 50% dell'importo necessario. Per alcuni utenti molto lontani dalla rete potrebbero però voler dire anche 32.000 euro per la stesura dell'infrastruttura. Gli utenti però possono non partecipare alla spesa della stesura ma unicamente alla spesa dell'allaccio della propria abitazione con l'evidente rischio che qualcuno possa approfittare della situazione e lasciare ad altri residenti la spesa per la stesura della rete e pagare unicamente l'allaccio una volta costruita l'infrastruttura. Il 26 marzo scorso il Consiglio Comunale di Ravenna ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno dal titolo agevolare gli interventi di allaccio alla rete idrica per le case sparse. Da quest'ordine del giorno è partita la mozione di Lapigna sostenuta dall'opposizione ma bocciata dalla maggioranza e quindi respinta con 18 voti contrari e 7 voti favorevoli. L'assessore del Conte ha spiegato che il Comune vorrebbe rivedere il progetto di stesura della rete del regolamento di Atersir per cercare di trovare una soluzione più idonea per la pubblica amministrazione e i cittadini. Se il regolamento non dovesse essere modificabile, d'altronde è stato approvato appena lo scorso anno ma già presenta delle falle, il Comune valuterà di impegnare a risorse del bilancio pubblico e se introdurre una valutazione USEE o altri parametri per i residenti coinvolti. Da stabilire anche se sarà possibile aumentare la quota di investimento di Atersir. Atersir, dal canto suo, sta valutando quali opzioni possono essere messe in campo, diminuendo però l'investimento da parte dei privati cittadini è verosimile che le domande di allaccio possano aumentare creando ulteriori discrepanze con chi ha già investito fondi propri in questi anni ma andando anche ad aumentare la spesa necessaria per soddisfare tutte le richieste. L'obiettivo è di trovare un progetto equo per tutti che possa rimanere equo nel corso degli anni. Sarà un percorso lungo.